L'associazione Robin Hood è tornata nuovamente a sollevare questioni riguardanti la costruzione della casa dello studente di Teramo. Dopo le recenti dichiarazioni del presidente dell'Azio e del rettore, è emerso che la struttura per la quale era stato annunciato un finanziamento nel 2022 sarà pronta per il 2026. Sinceramente siamo sconvolti da questa notizia e oggi siamo qui per rivedere alcuni concetti. Innanzitutto, dopo la nostra conferenza stampa d'agosto, l'Azio aveva fatto una conferenza stampa presso la sede della futura casa dello studente e ci sono stati dati dei tempi tecnici per quanto riguarda i lavori, che non erano quelli del luglio 2023, però annunciati dal governatore della regione Abruzzo. Qui c'è stato detto che c'erano quattro imprese nel cantiere, che avrebbero iniziato gli scavi, che avrebbero a gennaio avviato l'appalto per quanto riguarda affidato, l'appalto per quanto riguarda la realizzazione della seconda struttura, quella dove andranno i ragazzi a dormire, che è una struttura tutto quanto in metallo, quindi non c'è bisogno di opere, se non quelle primarie di cemento e così via. E questa struttura per aprile maggio sarebbe stata montata, noi ci siamo a giugno e stanno ancora alla fase degli scavi, quindi il cantiere è presto che fermo o fortemente lento. Ora, la domanda che sorge spontanea è questa, a chi giova che i lavori, le tempistiche non vengono rispettate e ci si accontenta la proroga e si aspetta il 2026, non giova nessuno, cioè giova da solo disagi agli studenti universitari che stanno aspettando finalmente questa casa dello studente, che ricordiamo per quanto riguarda Abruzza è l'ultima ad arrivare, perché le altre province, Chiedi, L'Aquila e Pescara già ce l'hanno. In risposta a questi ritardi e alla mancanza di trasparenza, l'associazione Robin Hood ha annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti. Faremo un esposto alla Corte dei Conti per capire se questo rilassamento sui lavori sia più o meno giusto. E poi soprattutto anche ad altre autorità faremo degli esposti perché su alcune tematiche avevano già posto, avevano posto anche prescritto alla DSU, non ci sono state date risposte e siccome c'erano violazioni di alcune enormi leggi quindi c'era un esposto in questi termini.